Cambiando la rete, sta cambiando, io ho dato fuoco a una miccia, non sono l'artefice di questo, non datevi questo compito, sono pieno nel campo di suppliche individuali che ho raccolto in tutta Italia, suppliche, grino perso qua, grino perso il lavoro, mia madre non c'era in medicina, fai qualcosa, vai, è qui a Roma, dai e vai e rompere il culo, allora, allora, l'abbiamo fatto in giro. E arrivo da tutta Italia e allora è finita, è finita, è finita per questa gente, è finita, io arrivo con delle pugnalate nel cuore, arrivo con delle pugnalate nel cuore.